Ancora casi di positività al coronavirus tra il personale sanitario in provincia di Arezzo. Contagiati un medico dell'ospedale della Gruccia di Montevarchi e un'operatrice dell'ospedale del Casentino di Bibbiena. Nel primo caso si tratta di una dottoressa che lavora in medicina. La donna aveva fatto un primo tampone il 30 marzo perché accusava mancanza di gusto ed olfatto, ma era risultato indeterminato, ripetuto dopo 48 ore e risultato positivo. Il medico competente ha quindi stilato l'elenco del personale che è stato a contatto con la dottoressa. Oggi è stata fatta una prima parte dei tamponi che domani si concluderanno. Per quanto riguarda i pazienti, quelli che sono già stati dimessi sono sotto controllo del medico di famiglia. Stesso controllo per quelli in reparto. Gli ambienti sono stati infine sanificati. A Bibbiena è risultata positiva al tampone, invece un'operatrice sociosanitaria. Si tratta di una donna che da alcune settimane lavora presso il reparto di medicina. Prima di prendere servizio, l'operatrice era stata sottoposta al tampone, risultato negativo. A seguito di un paziente positivo o asintomatico, l'intero reparto era stato poi sottoposto a tampone. Gli altri pazienti sono risultati tutti negativi. Solamente il tampone dell'operatrice è risultato positivo. La donna adesso si trova in quarantena ed è seguita al proprio domicilio. Previsti tamponi anche per tutti i pazienti del percorso oncologico che devono sottoporsi ad un intervento chirurgico. Prima del ricovero faranno il tampone attraverso la modalità drive-thru per poter così intercettare eventuali positivi e asintomatici prima del loro ingresso in reparto.